Sindaco soddisfatto a metà per gli emendamenti passati nel decreto sblocca cantieri se c'è stata la proroga per la restituzione delle tasse sospese dopo il sisma al 31 dicembre che comunque non risolve definitivamente il problema per le imprese aquilane e se c'è copertura per il bilancio del comune minori entrate maggiori spese per il sindaco dell'aquila pierluigi biondi restano questioni aperte e ricorda che loro avevano proposto degli emendamenti su problematiche a costo zero per lo Stato come ricostruzione privata e altro. Noi avevamo presentato emendamenti su quattro argomenti la duplicazione anche per il 2020 del contributo per le minori entrate e le maggiori spese che c'è stato accordato per un importo di 10 milioni di euro il prolungamento dei termini per la produzione della documentazione relativa alla restituzione delle tasse sospese a seguito del sisma per un anno e c'è stata accolta parzialmente perché la proroga è stata data fino al 31 dicembre 2019 poi avevamo presentato importanti emendamenti senza oneri per lo Stato quindi a costo zero per la ricostruzione pubblica quindi per accelerare le procedure per la ricostruzione di tutti i beni pubblici aumentando anche il periodo previsto di semplificazione per le scuole al 2021 e per la ricostruzione privata perché in città ci sono ancora centinaia di cittadini che sono quelli che hanno le case in comproprietà oppure quelli che hanno le case avevano la casa in corso di costruzione al 6 aprile 2009 che ancora non vedono riconosciuti dei diritti perché ci sono delle lacune normative che noi avremmo voluto compensare fra l'altro la eventuali coperture per maggiori spese per questi fatti specie sono già nei finanziamenti previsti per la ricostruzione privata quindi ampiamente coperti il MEF sempre così attento a fare le pulci a ogni centesimo che va alla ricostruzione poi però autorizza l'esproprio l'ho chiamato così di 65 milioni di euro in favore di altre zone colpite da calamità che per carità la solidarietà c'è però se queste sono le premesse io inizio ad essere preoccupato in ordine alla prosecuzione dei finanziamenti per la ricostruzione dopo il 2020 Grazie 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 Grazie